Anche quest'anno il rapporto giovani ha scelto di sviluppare un specifico approfondimento su una regione italiana. Nell'edizione 2024 è stata scelta la Lombardia. La Lombardia rappresenta uno dei motori economici del paese, ma anche in Lombardia i giovani under 35 risentono di tutta una serie di problematicità che caratterizzano l'intero paese. Per questa ragione Regione Lombardia ha deciso di sviluppare un osservatorio giovani con l'obiettivo di raccogliere dati e informazioni utili a definire politiche pubbliche che rispondano alle reali necessità della popolazione 18-35 anni. Il rapporto giovani del libro di studio Tognolo rappresenta uno degli attori principali all'interno di questo progetto e come già successo nello scorsi anni si propone di essere una voce importante nel panorama nazionale. Grazie a tutti!